Ciao a tutti, oggi Alimentiamo la Salute vuol far vedere come si prepara il latte di mandorla fatto in casa. Ci sono due procedimenti per fare il latte di mandorla, uno fatto con un frullatore e il secondo fatto con un estrattore. L'estrattore deve essere un estrattore ovviamente che lavori molto bene in modo tale che riesca a estrarre bene dalle mandorle e il frullatore, la tecnica del frullatore è molto semplice, fino alla parte della mattina, prima della creazione del latte di mandorla tutto il procedimento è uguale. Adesso vediamo il procedimento iniziale, dopodiché vediamo come si fa il resto, l'estrazione. Allora, si prendono delle mandorle non trattate, quelle non trattate hanno la peculiarità che hanno la buccia, ok? Ovviamente sono sgusciate ma non pelate, quelle invece pelate in commercio sono state trattate con agenti chimici per essere pelate. Allora, si prendono queste mandorle, si mettono a bagno se possibile con acqua ionizzata alcalina, questa è acqua ionizzata alcalina e la mattina dopo 12 ore di ammollo si sgusciano semplicemente schiacciando con le dita bene via la pelicina, quindi è molto semplice. Ok, cosa facciamo invece? Se le dobbiamo utilizzare il frullatore, prendiamo le mandorle, le mettiamo all'interno del frullatore e ci aggiungiamo il litro d'acqua, ok? Litro d'acqua se possibile ionizzata. Si frulla fino ad avere un composto omogeneo, completamente bianco, e dopo con un piccolo setaccio, così, scusate ma cola, si va a separare diciamo la fibra che è rimasta dal liquido. Ok, adesso vediamo come si fa invece a frullare, a estrarre con la Angel. Allora, si mettono un po' di mandorle. Ok, e si spinge per tirare fuori in sotto. E si aggiunge un po' d'acqua. Mandorle. Acqua. Acqua. Il procedimento è molto semplice, questa è la peculiarità rispetto all'altro che non c'è bisogno di filtrarlo perché esce già filtrato, ecco un'altra cosa importante è che con la pellicina se l'avessimo lasciata, a parte il colore del latte che cambia, non è bello bianco, dura anche meno poi in frigo perché solitamente poi si conserva se sono pelate per 2-3 giorni in frigo. Alla prossima con il secco che rimane, questo qua viene fuori, è possibile poi realizzare dei formaggi crudisti che faremo poi un post apposta su come realizzare dei formaggi crudisti, oppure si possono usare come base per comunque un impasto crudista. quindi per fare dei cracker ecco appunto A presto. 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 Ci vediamo alla prossima puntata.